Il Partito Democratico di Teramo analizza lucidamente il voto delle recenti elezioni regionali. Se da una parte il PD Teramano perde 5 punti in percentuale rispetto alle politiche del 4 marzo scorso, la coalizione di centrosinistra a sostegno di Legnini Presidente a Teramo Città arriva quasi al 37%, oltre 5 punti in più rispetto al 31% ottenuto su base regionale. Il segretario comunale Massimo Speca invita dunque a valutare il risultato complessivo della coalizione e non della singola lista del Partito Democratico che, democraticamente, ha lasciato liberi i suoi iscritti di presentarsi con le liste civiche. Una sconfitta dalla quale dobbiamo ripartire con maggiore vigore perché è una sconfitta maturata attraverso l'elaborazione di un progetto nuovo voluto da Giovanni Legnini attraverso un allargamento del campo civico teso a favorire l'emersione di tutti i soggetti provenienti dalle professioni del terzo settore per contribuire appunto alla perimetrazione di un campo di pensiero radicale, progressista e liberale. Mentre la media regionale e provinciale parla di una coalizione di Legnini che si attesta intorno al 30%, su Teramo Città la coalizione di Giovanni Legnini raggiunge addirittura il 36%. Qualcos'altro va però chiarito e analizzato. C'è per esempio quella foto politicamente ambigua che in questi giorni circola sui social e che rappresenta, seduti a cena allo stesso tavolo, l'ex onorevole PD Tommaso Ginobile, l'attuale segretario provinciale del Partito Democratico di Teramo Gabriele Minosse e Paolo Gatti di Forza Italia. Accordi trasversali per le prossime elezioni provinciali? Beh, per le provinciali adesso si tratta di portare avanti un'interlocuzione con tutti i territori, con tutte le anime del partito per superare, è inutile nascondercelo, alcune frizioni che ci sono state all'interno del partito per favorire appunto il risultato che sulla carta non può non essere positivo. È fantapolitica dire che c'è un asse Minosse e Ginobile Gatti? Per avere prova di certi assi dovrei conoscere alcune dinamiche. Io credo che in questo momento dobbiamo osservare tutto, avere ovviamente la sopportazione anche di alcune situazioni e poi nell'eventualità correggere ogni frizione, ogni disfunzione a momento debito.